Inaccettabile, si è confermato inaccettabile pensare di scherzare con la vita delle persone, con la vita delle città, fornendo dati manipolati per chissà quali interessi. Noi chiediamo chiarezza, io come sindaco di Palermo, come presidente Lancio di Cina, a nome di tutti i sindaci chiediamo chiarezza. Noi sindaci ci siamo attenuti, le indicazioni venivano fornite e adesso sorge ancora una oltre il dubbio che si tratti di dati non veritieri, addirittura manipolati ad arte. Voglio ricordare ancora ad ottobre la polemica col governo regionale, quando ho chiesto l'intervento del governo nazionale per accertare i dati che riguardavano il contagio a Palermo per consentire o non consentire la riapertura delle scuole. Ebbe allora l'assicurazione di un intervento del governo nazionale o in queste settimane, in questi mesi continuamente richiesto all'assessore Razza e tutti gli organi competenti sanitari e locali di fornire dati certi e non a nome mio, non per Palermo ma per tutti i comuni della Sicilia e oggi siamo in presenza di un dubbio grande, enorme, che finisce certamente col creare sfiducia, che finisce con il penalizzare la vita delle persone e fornisce con rendere incerta l'attività dei sindaci. Noi chiamati da una parte a ricevere dati che dovrebbero essere corretti e dall'altra parte di adottare provvedimenti. La classificazione di una zona non deve essere, non mi stancho mai di ripeterlo, né una partita a poker dove è possibile bleffare nascondendo le carte, né tantomeno non può essere un concorso a premi dove essere arancione è meglio che essere rosso e giallo meglio che essere arancione con la conseguenza che poi la gente muore. Si muore, si muore e non si scherza con la vita delle persone.